... Immediato, giocoso e pungente come un graffitista, a suo agio nel circuito di gallerie e mostre quanto un navigato conceptual artist. Pierpaolo Perretta, comasco, noto come Mr. Save the Wall, presenta a Milano, da Deodato Arte, un nuovo corpo di lavori dedicato al diffondersi universale della lingua inglese, dal titolo International Language. Il punto di partenza è una domanda shespiriana. Una rosa e una rose profumano allo stesso modo. È un progetto che mette sotto la lente di ingrandimento il passaggio al bilinguismo italiano-inglese, che è poi, dal mio punto di vista, destinato a trasformarsi in un'unica lingua, un unico inglese globale, un'international language per una grande comunità globale. Ho voluto prendere delle immagini e associarle a delle parole, con la loro fonetica. Quindi, diciamo, non si perde il senso con quella che è un po' l'ironia del mio lavoro, no? Mettere sotto la lente di ingrandimento temi importanti, ma trattati con grande leggerezza. Un primo livello basilare è quello della presentazione dell'abecedario, di quelle che sono le 26 lettere dell'alfabeto inglese, perché qui ci riferiamo proprio alla lingua globale, che è appunto l'inglese, abbinate quindi alla propria trascrizione fonetica. E poi abbiamo 26 parole, 26 quindi oggetti che si riferiscono alle lettere iniziali dell'alfabeto inglese, che si riferiscono in questo caso al mondo poetico dell'artista, quindi al suo vissuto personale. Abbiamo immagini che rimandano al cibo, allo sport, alle passioni principali dell'artista, ma anche a quelle che sono le icone pop utilizzate nelle ricerche precedenti. Questo progetto parte dalla mia vita, dalla mia esperienza di vita quotidiana. I primi oggetti che ho scelto di portare sono oggetti che hanno un significato per me. Ah, ti piace suonare la tromba? Ho messo una tromba, perché lo trovo uno strumento anche bello. Se molte delle immagini che illustrano i corrispondenti vocaboli inglesi hanno l'oggettività chirurgica di un cartello segnaletico, in alcune l'intervento ironico di Mr. Save the Wall è più evidente. Ecco allora la voce street art, rappresentata con pitture rupestri, a suggerire la spontaneità primordiale e l'urgenza espressiva dell'arte di strada. E poi Uncle, che non è uno zio qualsiasi, ma zio paperone che si tuffa nei soldi. È Black, un divertito gioco di metapittura. Riflessioni che strizzano l'occhio alla linguistica di Desaussures, esaltate dal rigore del bianco e nero e dai contorni taglienti della tecnica a stencil, appena attenuati da sbavature volontarie e da discreti interventi di dripping in stile Jackson Pollock. Dopo un intenso utilizzo del colore, un colore esplosivo, un colore forte, un colore intenso che lui ha applicato alle opere della precedente ricerca, da una stesura monocroma del fondo all'applicazione del dripping e degli stencil sulla superficie, ha deciso di ripartire da zero. La scelta di una trascrizione in bianco e nero e di un utilizzo in negativo dell'immagine. Questo perché? Perché in questo modo non è più il colore a distrarre dalla visione dell'oggetto, bensì si arriva direttamente al punto focale dell'opera che è la parola, il linguaggio. Ammiratore di Banksy e del suo stile incendiario, Pierpaolo Perretta è un ex manager della Confartigianato di Como, che nel 2013 ha lasciato l'impiego certo per trasformarsi in Mr. Save the Wall, artista a tempo pieno, le cui prime opere hanno fatto subito infuriare il mondo dei writers e dei graffitisti. Save the Wall, infatti, è un eretico della street art. Si rifiuta di agire nell'illegalità, non dipinge restando anonimo e anzi rilascia interviste. Non disdegna le commissioni di enti pubblici né di vendere i suoi pezzi ai collezionisti. Ma soprattutto, come dice il nome d'arte che si è scelto, non imbratta i muri della città. Quando ho iniziato, mi trovavo già in un momento storico in cui non potevo, per la mia maturità, per la mia educazione, esercitare la street art secondo le regole canoniche. Cioè, per me l'idea di fare il mio lavoro poteva essere bellissimo, ma su un muro di proprietà altrui era un qualcosa di troppo forte per me. Per me la vera forza del mio progetto era andare e affiggere su un muro un cartone, carta da pacchi, una qualunque cosa sul mio lavoro. Quella era la mia funzione. Salvo il muro, salvando il muro tu non guardi più l'atto vandalico, ma guardi al mio lavoro, al mio messaggio. La gente poi ha cominciato a portarli via dal muro, creando tra l'altro una forma di vandalismo inverso molto interessante. Pierpaolo l'ho visto la prima volta gironzolando per Como, dentro alcune vetrine di alcuni negozi. E lì ho visto che c'era un artista che mi interessava. Di Mr. Sede Wall mi piacciono principalmente due elementi che per me sono molto importanti. Uno, la riconoscibilità, l'immediatezza di un messaggio. Dall'altra parte, la ricerca. Cioè il fatto che comunque dietro ogni cosa anche quella più intelligibile e immediata c'è dietro un ragionamento estremamente profondo. C'è dietro un ragionamento estremamente profondo.